Con una giornata di anticipo e davanti al pubblico amico, il Matesi ha conquistato la salvezza decisivo, il 2-1 è inflitto al Ferrante, al Fiugi. Veniamo alla cronaca, al decimo i padroni di casa si rendono pericolosi, cross di Fabiano per Ricamato che colpisce a botta sicura, ma Novi sulla linea riesce a fermare la sfera coi piedi a salvare il risultato. Un minuto dopo, corner per i locali, per la testa di Galesio, sfera sul fondo, Ricciardi ancora dalla bandierina, la sponda di testa e di Ricamato, sempre per Galesio, ancora una volta palla out. Questo è il preludio al goal che arriva alla mezz'ora, Galesio si procura questo calcio di punizione dal limite per il fallo commesso da Tajani. Preciso il calcio di punizione di Calemme che sorprende Novi e vale l'1-0. Il Fiugi sul finire di primo tempo risponde con questa conclusione da fuori area di Rocchi che non impensierisce del giudice. Sul 1-0 in favore del Matese le due squadre vanno a riposo. Due minuti ed il Matese si rende ancora pericoloso, triangolazione perfetta tra Galesio e Tribelli con quest'ultimo che arriva praticamente al vertice dell'area piccola e calcia sul primo palo, ma il portiere compie un miracolo e manda in angolo. Il 2-0 però arriva pochi secondi dopo. Masi raccoglie palla dalla tre quarti, guarda il portiere e non ci pensa due volte. Bolide che va dritto per dritto all'incrocio dei pali per un aerogol che fa impazzire di gioia i tanti tifosi presenti sugli spalti. Al 32esimo vicino anche il Tris con Tribelli che fa tutto da solo, ma Novi in ega la rete. Solo al 94esimo i laziali accorciano le distanze con Jakubib che sigla il definitivo 2-1. Domenica prossima per l'ultima giornata di campionato e di questa stagione per il Matese in programma alla gara in casa del Trastevere. Grazie per l'ultima giornata.